Dottavio, ma secondo lei, un campo, come abbiamo sentito, di 2.000-3.000 persone, apparentemente regolare, dove ci sono, come dicono le persone, c'erano centinaia di topi, c'è situazioni di... ma è normale? Assolutamente no, assolutamente no. Quindi bisognerebbe fare più campi, più distribuirli. Più campi, più distribuirli. Più campi, più distribuirli. Ma non è informato. Ma sono informatissimo, santa che... C'ha detto di chiuderli i campi, non di farli. No, di farli, di farli.